Voglio ascoltare e capire per poi proporre e rispondere. L'invito del primo comizio pubblico di Massimo Laporta e località Moio di Agropoli presso l'accogliente ristorante Terra Mia ha ricevuto consenso ed attenzione con la grande partecipazione di cittadini e sostenitori che seguono l'ex presidente del Consiglio Comunale di Agropoli. Nell'occasione dell'incontro Moio, Massimo Laporta e Gianni Petrizzo hanno presentato il candidato Benedetto Infante della lista civica Agropoli Giovani che ha indicato le sue idee di sviluppo per la località Moio. Benedetto Infante mi ha emozionato per le belle parole, ha dichiarato Massimo Laporta. Nello stesso tempo ha dimostrato che i giovani della nostra città sono consapevoli che Agropoli ha bisogno del loro contributo. Un contributo che hanno dato anche nella stesura del progetto politico Destinazione Agropoli, un programma dinamico e flessibile, un work in progress che sarà definito nel dialogo e nel confronto costruttivo con i cittadini che incontreremo nelle varie località di Agropoli, poiché è nostra intenzione ascoltare i bisogni, le aspettative e le idee che provengono dalla comunità, consapevoli che una dimensione partecipata non potrà fare altro che arricchire e migliorare il programma. A Moio abbiamo ascoltato il nostro candidato Benedetto Infante e i cittadini che hanno evidenziato problematiche e fatto proposte. Porteremo a compimento le richieste se dovessimo amministrare noi. Intanto, continua il candidato a sindaco, abbiamo individuato in località a Moio la realizzazione di un polo scolastico nei pressi dell'ospedale di Agropoli che rientra nei progetti speciali del nostro programma. La struttura garantirà ad insegnanti ed alunni la possibilità di frequentare scuole moderne, sostenibili, sicure ed innovative. Realizzazione di nuovi spazi per l'apprendimento, tenendo in debito conto tutte le criticità che sono emerse durante l'emergenza sanitaria, con lo sviluppo di aree verdi funzionali, alla realizzazione di progetti, laboratori in cui svolgere attività tecnico-pratiche e modalità cooperative, insomma attueremo un vero cambiamento che possa significare crescita, sviluppo e benessere diffuso per la nostra città e per tutti coloro che la abitano e la vivono, conclude Massimo Laporta.